un grandissimo autore, autore della Romagna che tra l'altro mi accomuna perché suonava la fisarmonica anche lui mi riferisco al maestro Tiberio Marani, qua tra il pubblico abbiamo anche il figlio Lionello Lionello alzati in piedi, fatti vedere, è stato un altro grandissimo maestro che ha contribuito così a fare crescere la nostra musica, la nostra tradizione e la nostra cultura e vogliamo omaggiarlo con un classico, conosciutissimo tra l'altro, forse il più conosciuto non nella versione che ho fatto io per due fisarmonica ma nella versione con tutta l'orchestra questo è meraviglioso per tutti voi Cicci Bonduoli 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 è sempre meraviglioso